Tecnologia ad energia libera da rilasciare dopo settembre 2012. Versione italiana allo specchio del pensiero. La presentazione ufficiale a tutti i governi del mondo delle nuove tecnologie della Keshi Fondazione, invitiamo a dare un'occhiata al sito della Fondazione per capire bene di cosa si occupano. Il seguente frammento è stato preso da una copia dell'invito ufficiale ai leader mondiali nel governo. Questo vi darà una breve comprensione dell'importanza che avrà questa presentazione per la comunità globale. In breve, la Fondazione Keshi prevede di rilasciare energia libera e tecnologie a propulsione magnetica a tutta la comunità globale per porre fine alla povertà e alla fame subito dopo il 21 settembre 2012. In seguito a questo incontro, la presentazione del 21 settembre 2012 sarà il primo passo nel programma didattico della Fondazione Keshi per condividere la propria conoscenza e metterla nelle mani dei popoli di tutto il mondo. Una volta che queste nuove tecnologie e i loro benefici saranno noti al grande pubblico, i leader di ogni nazione dovranno decidere come metterle in atto per il miglioramento della vita di tutti. A quel punto ci saranno due scelte o lavorare tutti insieme per migliorare la vita di tutti sulla Terra in meglio attraverso modelli corretti di comportamento, le nazioni più avanzate del mondo, vedranno nel prossimo futuro una marea di immigrati nell'ordine di decine di migliaia di persone, che affolleranno le loro grandi città. Siamo pronti a presentare questa tecnologia ai vostri rappresentanti in qualsiasi ambiente in modo, che possano capire le sue implicazioni e i cambiamenti, che questa porterà. D'ora in poi, possiamo fare in modo, che nessun bambino o adulto morirà più di sete o di fame, e che nessuna nazione verrà attaccata da qualcun'altra, perché le potenziali applicazioni militari della nuova tecnologia sono così terribilmente distruttive, che non avremo altra scelta, che accettare il fatto, che la lotta alle risorse del pianeta è una cosa del passato. Di seguito è riportato l'invito completo se si desidera leggere gli ultimi eventi relativi alla libera circolazione delle tecnologie energetiche dalla Fondazione Keshe. Invito per la pace nel mondo e il rilascio di nuova tecnologia. Il testo, che segue, è una copia dell'invito ufficiale ai dirigenti dei vostri governi attraverso le loro ambasciate in Belgio. Queste e-mail lasceranno la Fondazione e saranno trasmesse a tutti gli ambasciatori in Belgio nelle prossime due settimane. Pubblicheremo il nome del Paese e l'indirizzo e-mail utilizzato in modo, che tutti possano seguire il processo di risposta del proprio governo. D'ora in poi spetta a voi vedere come questa tecnologia verrà recepita nel vostro Paese d'origine. A seguito della riunione della Fondazione Keshe con gli ambasciatori di tutto il mondo invitati a Bruxelles il 21 aprile 2012, ora il nostro invito va a tutte le nazioni del mondo attraverso i loro ambasciatori e i loro leader per partecipare ad una riunione, che avrà luogo il 6 settembre 2012 presso il centro della Fondazione Keshe di Ninove, in Belgio o in qualsiasi altro luogo le nazioni possono scegliere. Abbiamo invitato i rappresentanti di ogni Paese ad una prima presentazione della nostra tecnologia il 21 aprile 2012. Gli ambasciatori di alcune nazioni hanno partecipato a questo incontro e gli altri hanno scelto di ignorare la chiamata, a causa della pressione di altre nazioni e hanno deciso di non partecipare o si sono ritirati all'ultimo momento. Con questo secondo invito ci rivolgiamo direttamente e inequivocabilmente ai leader della vostra nazione perché nominino persone qualificate che possano prendere parte al prossimo incontro della Fondazione il 6 settembre in nome dei loro governi. Le ragioni di questo invito e la riunione sono le seguenti. Il 21 settembre 2012 la Fondazione Keshe rilascerà la prima fase della sua tecnologia spaziale il sistema gravitazionale e magnetico Magravs, che ha sviluppato, agli scienziati di tutto il mondo contemporaneamente, per la produzione e la duplicazione. Da quel momento in poi, i confini internazionali cesseranno di avere un significato reale. Questo perché, una volta, che il sistema di primo volo sarà costruito e messo in funzione per il pubblico, il tempo di viaggio per esempio da Terran a New York sarà di circa 10 minuti al massimo. I nuovi sistemi aerei consentiranno a ogni individuo di fare un viaggio, di qualunque lunghezza, nella stessa durata di tempo e ad un costo irrisorio da qualsiasi punto di questo pianeta. Queste imbarcazioni non saranno rilevabili con le tecnologie radar attuali. La crisi energetica sarà risolta in un colpo e, una volta, che la nuova tecnologia sarà messa in pratica, i poteri, che controllano le forniture di energia attraverso le loro attuali strutture finanziarie e si troveranno con le mani vuote. La penuria d'acqua nel mondo sarà affrontata e risolta con la presentazione di questa tecnologia al pubblico subito dopo il rilascio della nostra energia e della nostra tecnologia spaziale. Come abbiamo fatto questo? Negli ultimi sei anni abbiamo utilizzato il sistema del brevetto internazionale per assicurarci che ogni nazione e gli scienziati più importanti di tutto il mondo disponessero di una copia dei nostri brevetti. Si prega di controllare il registro del brevetto europeo ed internazionale per il numero di download. Così abbiamo impedito qualsiasi blocco di questa tecnologia da parte di qualsiasi individuo o gruppo e ora la maggior parte delle nazioni è in possesso dei nostri brevetti per la produzione di energia, per le tecnologie mediche e per i viaggi nello spazio. In questo modo i metodi utilizzati in passato per prevenire lo sviluppo internazionale sono stati elusi e ora tutte le nazioni hanno le stesse opportunità di lavorare insieme per vedere che questa tecnologia è stata sviluppata in modo sicuro. Il punto principale è che la nostra tecnologia è destinata ad essere liberamente disponibile per tutti i governi per il bene di tutti i cittadini. Attraverso i sistemi che abbiamo sviluppato ogni nazione può avere accesso a quanta più energia, acqua e cibo di cui ha bisogno, così come a nuovi metodi di cura della salute e del trasporto, il tutto a costi molto bassi. Secondo il suo statuto la fondazione Keshe e tutte le sue tecnologie sono di proprietà dei popoli del mondo. I brevetti sono le attività di ogni individuo su questo pianeta e non possono essere richiesti da qualsiasi persona o organizzazione o nazione. Ciò significa che tutti gli introiti derivanti dalla tecnologia appartengono alla nazione, che ne fa uso. Rilasceremo l'elenco dei paesi invitati alla riunione del 6 settembre 2012 e le piene mail di coloro che riceveranno gli inviti, quindi spetterà a voi come governo di rendere noto che la vostra nazione prenderà parte a questa riunione. Appena queste e-mail arriverà alle vostre ambasciate una copia verrà pubblicata sul forum e sul sito web della nostra fondazione in modo che i cittadini saranno consapevoli dell'offerta che è stata fatta a voi come nazione. Allora toccherà a voi fare in modo che conoscano la vostra opinione, come pure la fondazione, e noi raccoglieremo i nomi dei delegati nominati e lasceremo che i vostri funzionari sappiano dove e come incontrarli. In seguito a questo incontro, la presentazione del 21 settembre 2012 sarà il primo passo, nel programma didattico della Fondazione Keshe, per la condivisione della propria conoscenza e perché sia diffusa nelle mani dei popoli di tutto il mondo. Una volta che queste nuove tecnologie e i loro benefici saranno noti al grande pubblico, i leader di ogni nazione dovranno decidere come vorranno procedere alla loro attuazione per il miglioramento della vita di tutti. A quel punto ci saranno due scelte o lavoriamo tutti insieme per cambiare la vita di tutti sulla Terra per il meglio, attraverso i giusti modelli di comportamento, le nazioni più avanzate del mondo, vedranno nel prossimo futuro una marea di immigrati nell'ordine delle decine di migliaia di persone, che affolleranno le vostre grandi città. Siamo pronti a presentare la tecnologia ai vostri rappresentanti in qualsiasi ambiente in modo, che possano capire le sue implicazioni e i cambiamenti, che essa porterà. Non c'è stato nulla di sbagliato nella tutela delle risorse nazionali, ma ora, come capi di piccole regioni della Terra è vostra responsabilità accertarvi che le sue risorse della Terra sono disponibili per essere condivise e che, con l'aiuto della nostra energia, tutti i bisogni di base di l'energia, di acqua, di cibo e di assistenza sanitaria saranno soddisfatti. La Fondazione Keshe non tiene conto del colore, della nazionalità, della religione o dell'appartenenza politica, così la nostra chiamata si rivolge ad ogni governo perché nomini un team di scienziati che vengano a vedere le nostre tecnologie per primi. Poi i governi potranno decidere se farne o meno uso. Se si ignora questo invito la vostra nazione presto non avrà altra scelta che seguire l'esempio delle nazioni che hanno deciso di sviluppare le nuove tecnologie. Chiediamo alla vostra nazione di avviare il processo di cooperazione mondiale il più presto possibile perché, una volta che questi sistemi saranno in funzione, le frontiere che separano un paese da un altro non avranno più alcun significato. Abbiamo creato le premesse per un cambiamento di rota per l'umanità e nei prossimi mesi lo vedremo realizzarsi. Nel prossimo futuro la gente arriverà a capire che siamo qui per servire l'altro e non per essere serviti, in quanto tutte le risorse saranno disponibili a tutti nello stesso momento e nella stessa misura. M.T. Keshe Il fondatore e direttore custode della Stichting Fondazione Keshe